Nessun problema ragazzi, qua è tutto sotto controllo, quest'oggi parliamo di calciomercato, parliamo della Roma. Ragazzi, la Roma ha bisogno di un difensore centrale, come state vedendo dalle notizie di mercato, come potrete notare dalla rosa della Roma. La Roma cerca un difensore e oltre Rugani e Lovren, che erano i due nomi caldi per la retroguardia giallorossa, si è inserito anche il nome di Mustafi nella lista di Petrachi. Mustafi è un ottimo calciatore, un difensore dell'Arsenal tedesco, Mustafi mi sembra che è stato anche campione del mondo con la Germania, era tra i convocati, non ricordo. Ragazzi, è un ottimo calciatore, è un ottimo difensore, così come Lovren e Rugani, sono dei profili che farebbero bene alla Roma, a mio parere. Bisognerà vedere un po' quali saranno i prezzi richiesti, già si parlano dei prezzi di Rugani, già si parlano di trattative avanzate per Rugani, come per Lovren. Mustafi è un po' un tentativo, un nome, ecco, uscito nell'ultima ora, come idea nel caso Lovren e Rugani saltano. Quindi Lovren e Rugani sono i nomi principali per la difesa giallorossa, uno dei due penso arriverà, tutti e due sarà difficile visto che è già arrivato Mancini, ci sono Wangis e Fazio e non so se la Roma ha anche qualcun altro. La Roma ha bisogno di fare tanti acquisti, la Roma ha fatto una rivoluzione quest'anno, ma ce n'era bisogno. Ha mandato via, purtroppo, il Sharawi perché era un ottimo calciatore, però ha mandato via Zonzi, fortunatamente. Ha mandato via altri calciatori che comunque erano degli esuberi, oltre a De Rossi, che vabbè, lasciamo stare lì, è stato un ritiro, però da quel che sono forzato. Ma non parliamo di De Rossi qui, parliamo comunque dei difensori. Penso che Rugani lo abbiamo conosciuto tutti. Rugani dovrebbe essere più vicino perché Rugani è ai margini veramente della rosa giuventina, visto che non ha giocato neanche l'amichevole contro la Triestina, fa anche rima, e non ha giocato neanche l'amichevole con la Triestina, è stato penso l'unico che non ha giocato, e questo fa significare comunque in chiave di mercato che la Juve sta cercando di cederlo. Lovren, campione del mondo, grande stagione con Liverpool, campione d'Europa con Liverpool, quindi anche lui molto molto forte, ragazzi. Chi prenderà secondo voi la Roma? Io spero che questo video vi sia piaciuto, vi ricorderò se mi piace, spero che questi video di aggiornamenti di mercato vi piacciono. Io vi saluto e vi ricordo, non c'è nessun problema, perché tutto è sotto controllo. Bella! Ciao!